La presa arriverà più tardi, è veramente grossa! Eccolo qua, Maurizio La Rosa! Vi promettiamo che a Maragosso facciamo un altro hitting! Vai, vai, vai sempre di più ragazzi, vai! Su! This is a journey into the sun. Vai, ragazzi, vai! E a dove si cominciano la serata? This is a journey into the sun. This is a journey into the sun. ejam,ischen. This is a journey into the sun. Maurizio Larota C'è una grande, ma una grandissima sorpresa La riserviamo l'ultimo La riserviamo l'ultimo La riserviamo l'ultimo La riserviamo l'ultimo La riserviamo l'ultimo